Verso Juve-Stabia-Pescara, la partita è in programma domenica alle 17.30, ma per sapere qualcosa in più abbiamo in collegamento Enrico Giancarli. Buongiorno Enrico. Sì, ciao Marina, buon pomeriggio, ben trovati a tutti e anche agli amici che ci guardano a casa in diretta al TG8. Domenica alle 17.30 in trasferta a Castellammare di Stabia torna in campo il Pescara, padroni di casa senza lo squalificato Caldore, ma con l'ex Mignanelli e il difensore centrale Cinaglia recuperati, nessun problema di formazione per il tecnico abruzzese Alberto Colombo. Domani la rifinitura del Pescara, poi la partenza per il ritiro di Castellammare di Stabia. Sarà 4-3-2-1 il sistema di gioco tra i pali Plizzari, linea difensiva 4 composta da Cancellotti, dal rientrante Brosco che farà coppia con Boben che dovrebbe essere preferito in grosso e da Milani anche lui al rientro in mediana, vertice basso del centrocampo a tre sarà Luca Palmiero ai lati, Giabuà e Luca Mora in attacco, confermatissimo il tridente con Desogus e Cuppone a supporto di Facundo Lescano. In mediana Aloi ha giocato dal primo minuto due partite consecutive, quella di Avellino contro il Giuliano e quella contro il Cerignola la scorsa settimana, dal suo posto preferito Giabuà dal tecnico Alberto Colombo, mentre in attacco nei primi giorni della settimana Cuppone a fa svolto, lavoro differenziato, ma solo a scopo precauzionale, abile e arruolabile partirà dal primo minuto. Per i vari tuptacolai delle Monache, Germinario, Saccani e De Marino ci sarà spazio poi mercoledì in Coppa Italia, fischio d'inizio ore 14.30, stadio Adriatico contro il Gubbio. Ricordiamo ancora una volta l'appuntamento in campionato Marina domenica ore 17.30 a Castellammare di Stavvia, la direzione arbitrale affidata al signor Paride Tremolada della sezione di Monza, l'arbitro che ha diretto la gara d'esordio del campionato del Pescara, quella dello stadio Adriatico contro Lavellino. Il risultato fu di 1-0 con la rete di Facundo Lescano. Se non ci sono domande ti restituisco la linea a te.